Innesto spagnolo a centrocampo per Lovidiana Sulmona. Arriva il regista Carlos Salas Garcia, classe 97, proveniente dal Truiglio, squadra di tercera divisione. Nelle stagioni precedenti ha militato con Almagro, Eres e Morano. Con quest'ultima squadra ha totalizzato 35 presenze, di cui 24 da titolare, realizzando 5 gol. Carlos Salas Garcia ha maturato esperienze nella terza divisione spagnola dal 2016 fino a questa stagione. A pro da ora per la prima volta in Italia per mettersi in evidenza con i biancorossi. Il calciatore è già a disposizione del tecnico Pietro Cardilli e nel primo allenamento ha destato una buona impressione. L'inesto di Carlos Salas Garcia serve per rimpiazzare Osvaldo Morelli che, dopo il grave infortunio con la rottura del tendine, non potrà dare più il suo contributo in campo. Ringrazio l'amico Omar Trovarello, afferma il presidente Oreste Dedeo, per la disponibilità mostrata anche in questa occasione, mettendoci a disposizione un giocatore di qualità.